io non sono mai stato bambino non ho avuto fanciullezza calde e bionde giornate di brezza puerile lunghe serenità dell'innocenza sorprese della scoperta quotidiana dell'universo che sono mai non le conosco o non le rammento lo sapute dai libri dopo le indovino ora nei ragazzi che vedo lo sentite provate per la prima volta in me passati vent'anni in qualche attimo felice di armistizio di abbandono fanciullezza e amore e letizia e spensieratezza ed io mi vedo nel passato sempre separato triste meditante fin da ragazzo mi son sentito tremendamente solo e diverso né so il perché forse perché i miei erano poveri o perché non ero nato come gli altri non so ricordo soltanto che una zia giovane mi dette il soprannome di vecchio a sei o sette anni e che tutti i parenti l'accettarono e di fatti me ne stavo il più del tempo serio e accigliato discorrevo pochissimo anche con gli altri ragazzi i complimenti mi davano noia i gestri mi facevano dispetto e al chiasso sfrenato dei compagni dell'età più bella preferivo la solitudine dei cantucci più riparati della nostra casa piccina povera e buia ero insomma quel che le signore col cappello chiamano un bambino sconturoso e le donne in capelli un rospo aveva ragione dovevo essere ed ero tremendamente antipatico a tutti e mi ricordo che sentivo benissimo intorno a me questa antipatia la quale mi faceva più timido più malinconico più imbronciato che mai quando mi ritrovavo per caso con altri ragazzi non entravo quasi mai nei loro giochi mi piaceva stare da parte a guardarli come occhi verdi e seri di giudice e di nemico non per invidia era piuttosto a disprezzo quel che sentivo dentro in quei momenti fin da quel tempo incomincia la guerra fra me e gli uomini io li sfuggivo e loro mi trascuravano non li amavo e mi odiavano fuori nei giardini chi mi scacciava e chi mi rideva dietro a scuola mi tiravano i riccioli o mi accusavano i maestri in campagna anche in villa dal nonno i ragazzi dei contadini mi tiravano le sassate senza che avesse fatto nulla a nessuno quasi sentissero che ero di un'altra razza i parenti mi invitavano o mi carezzavano quando proprio non potevano farne a meno per non mostrare dinanzi agli altri una parzialità troppo indecente ma io mi accorgevo benissimo della finzione dello sforzo e mi rispondevo e tacevo e ad ogni loro parola rispondevo sgarbato ed acerbo un ricordo più di tutti gli altri si è inciso nel mio cuore umide serate domenicali di novembre o dicembre in casa del nonno col vino caldo in mezzo la tavola dentro una zuppiera sotto il gran lume a petrolio bronzato col vassoio delle bruciate a costo e tutta la famiglia zie zie cugine cugine in quantità quei visi rossi attorno il patriarca accanto al fuoco bianco ed arguto rideva e beveva scoppiettavano i ciocchi già mezzi coperti di lieve cenere delicata sbattevano i bicchieri sui piatti squittivano le zie bigotte sapute sui casi e gli scandali della settimana i ragazzi ridevano e strillavano in mezzo al fumo turchino dei sigari paterni a me tutto quel brusio di festa economica idiota faceva male all'anima e al capo mi sentivo straniero lì dentro e lontanissimo da tutti e appena mi riusciva passavo di nascosto la porta e a passi prudenti rasente al muro umidiccio mi inoltravo nell'andito lungo e che portava fino all'uscio di casa e lì sentivo il mio piccolo cuore di solitario che batteva con vehemenza come se stessi per fare un non secche di male per commettere un tradimento in quell'andito vera una porta vetrata che dava sopra una corticina scoperta la schiudevo appena e mi mettevo ad ascoltare l'acqua che veniva giù stanca e a malincuore rimbalzando sui mattoni e sulle pozze che veniva giù senza entusiasmo senza furia ma con l'ostinatezza lenta e odiosa di qualcosa che non finirà mai ed io l'ascoltavo nel buio col freddo nel viso e con gli occhi bagnati e se dallo spiraglio qualche goccia mi schizzava ad un tratto sulla carne mi sentivo felice come se quella stilla capricciosa venisse a purificarmi a invitarmi altrove fuori delle case e delle domeniche ma una voce mi richiamava alla luce al supplizio ai commenti che ragazzo maleducato sì è vero io non sono stato bambino sono stato un vecchio e un rospo pensoso e scontroso fin da allora il meglio della mia vita era dentro di me fin da quel tempo tagliato fuori dall'affetto e dalla gioia mi rintanavo mi nascondevo mi discendevo in me stesso nell'anima nella fantasticheria bramosa nella solitaria ruminazione dell'io e del mondo rifatto attraverso l'io non c'era altro scampo altra gioia per me non piacevo agli altri e l'odio mi rinchiuse nella solitudine la solitudine mi fece più triste e più spiacente la tristezza mi chiuse il cuore e dai zò il cervello la diversità mi staccò anche dai prossimi e la separazione mi fece sempre più diverso e fin da quel principio di vita cominciai a gustare se non a capire la verile dolcezza di quella infinita e indefinita malinconia che non vuole sfoghi e consolazioni ma che si consuma in se stessa senza scopo creando a poco a poco quell'abitudine della vita interna solitaria egoista che ci allontana per sempre dagli uomini no io non ho mai conosciuto la fanciullezza non ricordo affatto d'essere stato bambino mi rivedo sempre selvatico e sovra pensiero appartato e silenzioso senza un sorriso senza uno scoppio di franca gioia mi rivedo pallido e attonito come nel mio primo ritratto la fotografia è strappata a metà sotto il cuore e piccina sudicia estinta i bordi del cartoncino sono neri come le cornici dei morti un viso sbiancato di bambino sognante guarda verso sinistra e si sente che lì a sinistra di faccia a lui nessuno lo guarda gli occhi sono tristi un po' fossati la bocca è chiusa a forza con i labbi un po' soprammessi per non far vedere i denti unica bellezza i riccioli morbidi lunghi in anellati che cascan giù sul bavero della marinara la mamma dice che sono io a sette anni può essere questo mezzo ritratto è l'unica prova che io abbia della mia fanciullezza ma vi par forse questo ritratto di bambino questo piccolo spettro slavato che non mi guarda che non vuole guardare nessuno si vede subito che quegli occhi non sono fatti per tingersi del celeste del cielo sono bigi sono nuvolosi di suo quelle gote si vede bene che sono bianche che sono pallide e che saranno sempre bianche sempre pallide diventeranno rosse soltanto per fatica o vergogna e quelle labbra così chiuse volontariamente chiuse non sono fatte per aprirsi al riso alla parola alla preghiera al grido sono le labbra serrate di chi patirà senza la seccante debolezza dei lamenti sono labbra che verranno baciate troppo tardi in questa mezza fotografia sbiadita io ritrovo l'anima morta di quei giorni il viso delicato del rospo il cipiglio dello scontroso l'accoramento calmo del vecchio e mi si stringe il cuore ripensando a tutti quei giorni smorti a quegli anni infiniti a quella vita rinchiusa a quella mestizia senza motivi a quella nostalgia incancellabile di altri cieli ed altri camerati no no quello non è il ritratto di un bambino io vi ripeto che non ho avuto fanciullezza mi salvò da codesta solitudine senza luce la smania di sapere da quando ebbi conquistato rigo per rigo il mistero del sillabario ma sicce lettere nere minuscole ma in grassetto un'esta incisione in legno lontane e freddolose serate d'inverno sotto all'unga petrolio con la palla tutta dipinta di fiorelline arancioni ed azzurri accanto alla mamma giovane e sola che cuciva coi capelli neri chinati sotto ai riflessi io non ebbi piacere più grande né consolazione più sicura del leggere i più nitidi e sentimentali ricordi di quell'età non sono quelli del primo berretto la marinara di velluto celeste o delle arance succiate alla ringhiera di una vasca verde morta e neppure degli impettiti cavalli scalpitanti in vano sopra una striscia di legno e neanche del primo brivido provato presso una bambina dalla bocca semi aperta per il respiro avanzante della corsa ricordo invece con ancora infantile desiderio il mio primo o secondo libro di scuola povero umile sciocco libro di lettura legato in cartone giallino dove un ragazzo modello con punto e paffuto inginocchiato in camicia sopra un lettino di ferro pareva che recitasse proprio quella preghiera rimata che io compitavo lì sotto e ricordo fra i primi libri che mi capitarono sotto gli occhi anche una brutta sconciatura delle memorie di garibaldi che io leggevo e rileggevo senza capire esaltandomi istintivamente a quel puzzo di polvere a quello scintillio di sciaboloni a quelle cavalcate rosse di banditi e di vincitori niente di preciso avevo in testa ne sapevo nulla d'italia o di guerre pur mi sfogavo a ridisegnare la barbuta faccia del generale sul foglio di guardia del volume e mi sembrava che avesse ad essere vivo e vicino ma uno dei momenti più divini della mia vita fu quando ebbi ogni diritto sulla biblioteca di casa la libreria del babbo consisteva in una rustica cesta di truccelo con dentro poco più poco meno di cento volumi quella cesta era in una stanzina nascosta in fondo alla casa e che dava sui tetti dove c'era di tutto legni da bruciare cenci smessi trappole per i topi gabbia di passerotti un fucile da guardia nazionale e un'indignata camicia rossa garibaldina con la medaglia del 60 là mi chiudevo ogni giorno appena ero libero e tiravo su a uno a uno con stupore circospezione i libri dimenticati volumi slegati scompagnati unti avviliti da cacature di mosche di piccioni tutti strappati e sgualciti e pur tanto generosi per me di sorprese di meraviglie e di promesse leggevo qua e là decifravo non sempre capivo mi stancavo mi riprovavo e poi lasciavo andare tutto ma sempre agitato da un impaziente rapimento appena mi accostavo per le prime volte a quei mondi della poesia dell'avventura e della storia che talora una frase una figura faceva imbalenare un attimo solo al mio cervello vergine non leggevo soltanto fantasticavo ripensavo rifabbricavo tiravo a indovinare per me quei libri erano tutti sacri e pigliavo assolutamente sul serio tutto il loro contenuto non distinguevo tra storia leggenda tra fatto e fantasia i caratteri di stampa erano ai miei occhi testimoni infallibili della verità per me la realtà non era quella della scuola nella strada nella casa ma piuttosto quella dei libri là dove mi sentivo vivere di più in certi pomeriggi bruciati d'estate vedevo garibaldi galloppar col mantello sollevato dalla brezza tra le mandre e le fucilate della pampa nelle mattinate uggiose piovigginose ero insieme al conte al fieri che bestemmiava dietro ai cavalli e dai versi su tutte le strade postali d'europa e la sera fremevo di patriottico odio o di oratoria frenesia di gloria con gli uomini illustri di un plutarco minutamente stampato in tanti volumettini rivestiti di carta color zeffirino in quei libri trovai anche le prime spinte a riflettere vi erano in fondo a quella meravigliosa cesta anche cinque o sei volumacci verdi dove si buttava giù il dio e la santa teologia e si mettevano in burletta i racconti della bibbia e i preti del cattolicismo tra le infinite cose di quel centone vi era anche l'inno a satana del craducci e da quel tempo ho sempre sentito più amore per l'angelo ribelle che per il maestoso vecchio che sta nei cieli riconobbi poi quanto fosse grossolana e malsicura quella apologetica e religiosa ma debbo anche ad essa bene o male d'essere un uomo per il quale dio non è mai esistito figliolo di padre ateo battezzato di nascosto cresciuto senza prediche senza messe non ho mai avuto quelle che si chiamano crisi d'anima notte di dujufrois o scoperte della morte di dio per me il dio non è mai morto perché non è mai stato vivo nell'anima mia bisogna pur che qualcuno cominci a nascere e ad essere così un altro libro ebbe un grande effetto sulla mia mente da allora e perciò di sempre l'elogio della pazzia di erasmo da rotterdam ce n'era in casa un'edizione italiana con le secche spiritose figurine incise da holbein e lo lessi più volte con gusto indescrivibile debbo forse ad erasmo la mia passione per le tesi assurde e i pensieri non comuni è il convincimento profondo che gli uomini sono canaglie quando non sono imbecilli dopo qualche anno di letture furiose disordinate mi accorsi che pochi libri che erano in casa e quegli altri pochi che potevo avere o ricorrendo alle scarse librerie di parenti e conoscenti o comprandone qualcuno usato coi centesimi risparmiati sul companatico o coi soldi rubati alla mamma non bastava seppi da un ragazzo un po più grande di me che c'erano in città grandissime e ricchissime librerie aperte a tutti dove in date e ore si poteva andare chiedere qualunque libro si volesse e quel che più conta senza spendere nulla tutto là dentro mi pareva santo e maestoso come il ritrovo di una nazione quei seggeloni sudici estinti coperte di stoffa dove lo scolorito verde finiva nel giallo o si nascondeva sotto l'untume nero sembravano a miei occhi colossali e fastosi come troni e il vasto silenzio mi pesava sull'anima più grave e solenne di quello di una cattedrale dopo quel giorno ci tornai tutti i giorni per tutto il tempo che la tediosissima scuola mi lasciava libero a poco a poco feci l'abitudine a quel silenzio a quella stanzona così alta sopra la mia testa arruffata di adolescente trascurato a quella ricchezza sterminata di volumi antichi e nuovi di giornali di riviste di opuscoli di atlanti di codici e di manoscritti diventai presto come di casa imparai le facce dei distributori scopersi segreti delle segnature penetrai nei cataloghi con obivisi dei fedeli e degli appassionati che venivano come me tutti i giorni precisi e impazienti come un ritrovo di voluta cosa volevo imparare cosa volevo fare non lo sapevo né programmi né guide nessuna idea precisa di qua o di là est o d'ovest in profondità o in altezza soltanto sapere 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 tutto ecco la parola della mia rovina tutto fin da allora sono stato di quelli per cui il poco la metà non contano o tutto o nulla e ho voluto sempre il tutto e che niente manchi o sfugga o resti fuori completezza e totalità più niente da desiderare dopo cioè la fine l'immobilità la morte allora volevo sapere tutto e non sapendo da che parte incominciare sfarfalleggiavo attraverso la conoscenza con l'aiuto di manuali dizionari e enciclopedia l'enciclopedia era il mio sogno più alto l'ideale più caro il libro massimo e perfettissimo lì almeno a giudicare dalle promesse e dalle apparenze c'era tutto ogni nome di uomo di città di animale di pianta di fiume o di montagna era lì registrato messo al suo posto spiegato ed illustrato ad ogni domanda l'enciclopedia rispondeva e subito e senza che si dovesse durare fatica a cercare nella mia retorica fantasia tutti gli altri libri erano fiumi che si versavano in quell'infinito mare erano grappoli destinati a far col loro sugo quelle capaci botti di vino erano gli innumerevoli chicchi di grano che macinati e impastati davano il pane per tutte le bocche e per tutte le fami come il mistico si sprofonda nell'unico dio e cerca scordarsi d'ogni particolare e sensibile io mi tuffavo e perdevo in quel mare di sapienza che nel punto stesso di pienarmi mi dava nuovo appetito e nuova arsione accadde che a forza di praticare e maneggiare enciclopedie mi venne voglia di farne una anch'io a 15 anni con una mente così libidinosa l'impresa mi va facile voglio sapere tutto pensavo e però devo leggere tutto e copiare tutto per ricordarmi dovendo far tanta fatica è meglio che non la faccia soltanto per me raccogliendo per gli altri imparerò e ricorderò più e meglio anch'io però con la mia ingenua superbia la difficoltà cresceva io non volevo fare un'enciclopedia come le altre consultandone più d'una e leggendo altri libri ma ero avvisto che l'enciclopedia completa e perfetta non esisteva in una c'era talvolta quel che nell'altra mancava e in un punto c'era troppo poco e altrove molto di più mi proposi dunque di fare un'enciclopedia che non solo contenesse la materia di tutte le enciclopedia di tutti i paesi e di tutte le lingue ma le superasse e le sorpassasse dove ci fosse tutto quel che in loro era disperso e sparpagliato e più ancora e che non fosse solamente una ricopiatura e un rimpasticciamento di enciclopedia vecchie ma un lavoro nuovo fatto su dizionari manuali e libri recenti e speciali di tutte quante le scienze storie e letterature decisa la cosa non stetti con le mani in mano la mia vita aveva una direzione le lunghe ore in biblioteca avevano ormai un fine più grave e determinato mi posi al lavoro con focosa pazienza da quel giorno era di luglio in estate nella stagione della libertà ogni parola che cominciasse per a mi attrasse come il viso di un amico tutte le massicce enciclopedie i voluminosi dizionari i repertori usati e consunti i vocabolari speciali furono tirati giù dalle assi dagli scaffali per me da principio ricopiavo la rinfusa su quaderni o pezzi di carta scompagnati diversi poi mettevo ogni cosa al pulito in ordine su carta ben rigata e levigata di giorno in biblioteca scrittura brutta sformata frettolosa macchie scarabocchi e abbreviature la sera alla tremante fiamma della candela la più bella calligrafia di cui ero capace inglese e rotonda con inchiostro nero e rosso e la carta sugante sotto la mano sinistra che divertimento per star lì gobbo e con poco lume a scriver la mia enciclopedia avrei lasciato qualunque gioco e qualunque teatro e anche scommetto un serraglio di bestie feroci che nelle fiere era quel che mi tirava il cuore più d'ogni cosa eppure anche quella impresa che magnificava me stesso povero ragazzo ignorante ai miei occhi e perfino a quelli dei distributori di biblioteca che mi guardavano con una compassione venata di ironia e di rispetto mi venne annoia o per dir meglio mi spaventò per la perfezione che volevo raggiungere già lavoravo da un paio di mesi e di mattina e nel pomeriggio sotto i finestroni infuocati e di sera sotto le lampade ad arco in un'altra biblioteca o al lume di candela in camera mia eppure scrivi e riscrivi non ero riuscito a oltrepassare le parole che cominciavano per ad un lunghissimo articolo sul furente achille mi seccò costeggiavo la questione omerica ero sull'orlo della filologia classica parecchie parole greche che non capivo mi arenarono e mi umiliarono la ragione corse in aiuto alla stanchezza cominciavo allora a fiutare un po di filosofia chissà in quali perfidi libri e cominciavo la peggio a ragionare con le regole e a riflettere men grossamente che non si addicesse alla mia età vidi dunque che la sapienza vera non consisteva né poteva consistere in un accozzo alfabetico di notizie borseggiate qua e là da ogni parte in un ammonticchiamento di raccattaticci e di copiature ordinato meccanicamente ma senza soffio di vita né anima di pensiero abbandonai l'enciclopedia ma nello specialismo non volevo cascare il mio don giovannismo cerebrale mi tirava sempre indietro quando stavo per gettarmi in un solo amore ci voleva per me lo sterminato il grandioso la totalità delle cose l'ampiezza dei tempi la processione dei secoli e dei volumi mi pare che la storia dovesse fare il caso mio ideandola in grande completa storia di tutte le cose di tutte le attività centrava ogni cosa meno le scienze che avrei potuto studiare da me a parte naturalmente non già storia breve e particolare di un'epoca o di un popolo ma storia universale di tutti i tempi e di tutte le razze ed eccomi di nuovo a cercare a studiare a copiare e a compilare per cominciare mi salvai nella cronologia egiziana e impasticciai un compendio della storia di egitto fino agli alessandrini stavo per passare ai cinesi quando mi venne il pensiero che la mia storia era senza capo per scrivere una storia che fosse davvero universale occorreva principiare dalla creazione del mondo e non dai primi ricordi scritti quel poco che sapevo di astronomia e di geologia mi aveva dato l'idea di antichità meravigliose e di perpetui disfacimenti e nascimenti di mondi ma quando ebbe riscritto con qualche lirica inesattezza l'epopea fiammeggiante del sistema solare e la paziente storia delle scorse della terra pensai che non avevo fatto ancora tutto avevo detto come il mondo si era fatto veramente ma non già quel che gli uomini avevano creduto e fantasticato sopra il principio delle cose ma nella mia storia ci doveva essere tutto e passai allora dalle scienze alle cosmogonie la mia curiosità si bifurcò cascai da una parte nella letteratura comparata e dall'altra nella religione nella religione prima di tutto non ci fu teogonia o mito cosmico che io non ricercassi e non riassumessi o ricopiassi per inzepparne il principio della mia storia su nessuna però mi fermai come su quella degli ebrei cominciai seriamente presi una grammatica ebraica e in capo a pochi giorni scrivevo già grossi e contorti caratteri semitici ed ero capace di ricopiare i versetti del pentateuco dall'originale raccolsi un materiale che a me pareva grandissimo e ammonticchiai ogni mattina e ogni pomeriggio roba nuova finché un giorno mi parve abbastanza mi sentivo sazio e quasi nauseato da tanta arruffata erudizione sentivo che se non riuscivo a darle una forma purché sia avrei lasciato ogni cosa lì e per sempre allora ricopiai il primo versetto della genesi in ebraico e principiai a stendere il commento nel primo giorno il dio creò il cielo e la terra ero subito in mezzo alle difficoltà grosse in codesto versetto ci sono due parole che hanno dato assai da fare agli esegeti e che i cristiani hanno tradotto a modo loro come conveniva la teologia fissata nei concili e nei padri nel testo c'è dio o dei creò o formò cioè i primi giudei erano monoteisti o politeisti credevano alla creazione dal nulla o si immaginavano il dio come un demiurgo scultore che desse forma una materia increata indipendente da lui problemi infiniti come si vede storici e linguistici e filosofici insieme ma io non mi sbigottì e cominciai a scrivere scrivi scrivi e scrivi non mi riusciva di levarne le gambe si accavallavano gli argomenti le difese e controdifese si seguivano le citazioni in tre in quattro lingue si aprivano e si espandevano le parentesi filosofiche e le scorrerie teologiche il mio pochissimo ebraico in questa terribile congiuntura si smarriva e dovevo fidarmi degli altri e gli unici degni di fede erano per me quelli che davan torto ai preti e ragione alla ragione inclinavo dunque a credere che si dovesse tradurre gli dei formarono ma il difficile stava nel farne persuasi gli altri nel farli persuasi in modo tale che nessuno potesse rivoltarsi o dubitar del contrario e scrivi e scrivi e scrivi non riusciva a venire a capo di quel maledettissimo versetto che mi resterà impresso nella memoria finché avrò vita e più scrivevo e più le idee si ringarbugliavano e le buttate polemiche e le discettazioni etimologiche e le induzioni dialettiche si mescolavano e si sovrapponevano in una sabbatica danza erudita della quale io stesso non riuscivo più a ritrovare il ritmo e il motivo finalmente come quando lo spirito volle la spuntai avevo scritto più di 200 pagine fitte attacca il secondo versetto e la terra era una cosa deserta e vacua e le tenebre erano sopra la faccia dell'abisso e lo spirito di dio si muoveva sopra la faccia delle acque qui i tradimenti e i falsi teologici erano minori ma le difficoltà quasi ugualmente grandi dovevo spiegare le tenebre l'abisso e distinguere il concetto di spirito di dio dall'idea di dio a furia di scrivere arrivai al terzo versetto e il dio disse sia la luce e la luce fu non arrivai al quarto ero già stanco e seccato se per tre versetti c'erano volute tutte quelle pagine tutti quegli appunti tutte quelle erudizionerie cosa ci sarebbe voluto per far tutta la bibbia e commentare a dovere quelle migliaia migliaia di versetti a forza di fallimenti parziali di scarti di riduzioni di raccoglimenti io che volevo tutto che volevo sapere tutto e insegnar tutto mi ero ridotta con piacermi di varianti e di minuzzoli filologici e bibliografici nel cantuccio di un solco e dapprima il campo intero mi era sembrato troppo angusto spazio alla mia bramosia di lavoro e tutta la mia vita anche dopo è stata così un eterno slancio verso il tutto verso l'universo per dopo ricascare nel nulla o dietro la siepe di un orto un succedersi di ambizioni enormi e di rinunzie e di disfatte continui questa breve storia di tentativi fanciullischi è una fra le traduzioni possibile del segreto della mia vita io sono nato con la malattia della grandezza il mio primo ricordo è questo avrò avuto forse sì forse no otto anni stavo quasi sempre solo e leggevo spesso un libraccio di scuola pieno di grossolane figure e di scarabocchi violetti lì trovai un giorno la storia dell'incoronazione del petrarca in campidoglio e la lessi e rilessi anch'io anch'io dicevo tra me senza neppur sapere precisamente perché la corona fu messa sul capo al grassoccio poeta dal libro la tonda faccia mal disegnata del lamentoso sonettaio tutta chiusa nel cappuccio aureolato di fogliette guzze come un fegatello pareva che sorridesse e mi incurasse anch'io anch'io feci di tutto perché il babbo mi portasse al vial dei colli quando fui lassù strappai dai bassi arbusti di una siepe un par di fronde di sempreverdi non ero sicuro che fosse il famoso alloro ma non ci badavo tornato a casa mi rinchiusi in quella stanzina che era in fondo alla casa e dove c'era la già ricordata libreria di truciolo là feci con quelle fronde una specie di corona e me la messi in capo mi buttai sulle spalle un gran cencio rosso e cominciai a girare lungo i muri cantando una lunga anemia che a me pareva eroica e fremmebonda e battendo solennemente sopra una cassa di legno col manico di un coltello mi pareva a quel modo di andarmene in gran pompa al campidoglio e che quel rumore fosse l'accompagnamento necessario forse il mughio della moltitudine plaudente così feci una bigiamattina d'inverno il mio buffo sposalizio con la gloria ma la prima vera promessa che feci a me stesso fu più tardi a 15 o 16 anni era una fosa domenica d'agosto verso le quattro ed io passeggiavo malinconico e senza compagnia come il solito per una delle strade più lunghe più larghe della mia città avevo in mano un giornale comprato a forza di chissà quali umiliazioni e camminavo a capobasso stanco annoiato indispettito contro il caldo e contro gli uomini era l'ora in cui la gente si leva mezza instupidita dalla siesta ed esce fuori con la ridicola speranza di un soffio d'aria e del fresco della sera uscivano le balie infioccate coi bambini rossi e pegnucolanti fra le trine i mariti sudati con le mogli a braccetto i fratelli con le sorelle per la mano i giovenottelli a due o tre con le sigarette bianche penzolanti dai labbri le ragazze coi fazzoletti chiari in testa e gli occhi briosi e desiderosi i vecchietti in sopravvito con l'ombrello celestino sotto braccio i poveri soldati vestiti di scuro e tutti impacciati con i loro guanti di filo bianco a ogni momento la gente cresceva riempiva i marciapiedi traversava la strada rideva si salutava sotto i grandi cappelli fioriti gli occhi delle donne scintillavano da ogni parte come diamanti neri ogni tanto due cappelli di paglia tenuti da due mani alzate apparivano sopra le teste dell'armento festivo io mi ci trovavo a disagio non conoscevo nessuno e odiavo tutti ero vestito male ero brutto ero bianco in viso avevo l'aspetto severo del malcontento sentivo che nessuno mi amava e poteva amarmi chi mi guardava mi disprezzava con tutto il viso passando qualcuno si voltava indietro a guardarlo sparuto solitario e rideva specialmente le belle ragazze vestite di bianco e di rosso col viso bruno e i denti puliti erano crudeli con me spesso sentivo le loro scoppiettanti risate dietro alle mie spalle forse non ridevano di me ma in quei momenti ne ero certo e ne soffrivo tutta la vita bella mi pareva negata io solo io senza amore io senza fortuna e quella gente non si dava pensiero di me o mi disprezzava e andava la sua passeggiata tranquilla senza saper nulla delle mie tristezze di adolescente povero e pensò e allora ad un fatto mi rivoltai sentì dentro di me come un tuffo di sangue un rimescolamento di tutto l'essere no gridavo dentro a me stesso così non deve essere anch'io sono un uomo anch'io voglio essere grande e felice cosa credete di essere voi altri uomini sciocchi e donne ben vestite che mi passate d'accanto con tanta strafottenza vedrete cosa farò io voglio essere più di voi più di tutti sopra a tutti sono piccino povero e brutto ma un'anima anch'io e quest'anima getterà tali gridi che tutti dovrete voltarvi e sentirmi e allora io sarò qualcosa e voi seguirete a non essere nulla e io farò e creerò e penserò e diventerò grande più dei grandi e voi continuerete a mangiare a dormicchiare a passeggiare come oggi e quando passerò io tutti mi guarderanno e le belle donne avranno uno sguardo anche per me e le ragazze ridenti mi vorranno accanto mi stringeranno tremando le mani e gli uomini seri si leveranno il cappello lo terranno ben alto sopra il loro capo quando passerò io io in persona il grande il genio l'eroe e così pensando rialzavo la testa e il mio petto si gonfiava e i miei occhi guardavano non più paurosi ma con odio e fierezza tutte le facce bianche e brune e giallastre che mi passavano d'accanto era un altro in quel momento di certo sembravo più bello arrivai così una gran piazza dinanzi a un arco di trionfo i cavalli della quadriga galoppavano nel cielo arroventito del tramonto mentre giuravo a me stesso che sarei diventato grande prima di morire in quei tempi ero povero decentemente ma atrocemente povero ho sempre odiato e anche oggi quelli che sono nati vicino ai portafogli pieni quelli che hanno potuto comprare quel che hanno desiderato quasi sempre ero borghesemente povero senza fame e senza fretto ma soffrivo le gioie della mia vita erano piuttosto rade e modeste avevo bisogno prima di tutto di libri avevo bisogno di giornali avevo bisogno di carta da scrivere e di penne e d'inchiostro miserie spese piccole pochi soldi eppure anche quei pochi soldi mancavano mio padre non poteva darmi nulla e aveva ragione durava fatica a mantenere tutti noi come fare dunque dove trovare i denari che io volevo che dovevo avere a tutti i costi per le spese mie per dar da mangiare alla mia anima ricorsi a più mezzi prima di tutto all'economia mi davano due soldi al giorno per il compagnatico della colazione io spendevo sette centesimi ogni settimana erano cinque giorni di scuola erano tre soldi un volume della biblioteca del popolo o tre quaderni di carta poi c'era la mamma la mamma era come di giusto più misericordiosa del babbo vedeva la mia passione mi compativa anche lei poveretta non aveva molti più soldi di me eppure a forza di indicibili risparmi ed espedienti trovava il modo di darmi due tre e anche quattro soldi per settimana che si tramutavano subito in dispense di libri illustrati in carta regata a casellini perché c'entrasse più roba o in giornali di letteratura altro mezzo era il ladrocinio e non mi vergogna a confessarlo per molti anni mi son dato cautamente ma di continuo al piccolo furto domestico a volte la mattina presto mentre il babbo era ancora letto riuscivo lì fra il buio ad acchiappare qualche soldo nel taschino della sottoveste appesa a un attaccapanni oppure non rendevo il resto di qualche spesa se il babbo se ne scortava o dicevo di aver speso qualcosa di più o di aver perso una parte dei quattrini per strada mi sgridavano ma era tanto il conforto di quei pochi soldi nascosti anche a forza di sotterfugi di preghiere di inganni ero sempre il povero il ragazzo povero e silenzioso che nessuno vede volentieri ma io ricordo sempre con orgoglio le umiliazioni di quegli anni quante volte son passato e ripassato dinanzi a una vitrina adorando con gli occhi un libro lungamente desiderato e senza cuore per chiederne il prezzo e quante volte tastavo in tasca i pochi soldi e le ricontavo per la paura di averne meno o di averli persi ed entravo in bottega col viso bianco timido e zitto aspettando che il padrone fosse solo per dire quel nome e quel titolo quanto mi disprezzavano allora gli ibrai padroni compagni parenti tutti ragazzaccio scarno silenzioso e mal vestito con gli occhi fissi di miope le tasche piene di fogli le mani sudice d'inchiostro le pieghe della rabbia e della tristezza intorno alla bocca e la mia ruga diritta che cominciava a incidersi su in mezzo alla fronte però non mi lamento di quella miseria né mi vergogno delle passate umiliazioni la facilità della vita mi avrebbe fatto forse più vigliacco, meno appassionato e in fondo più meschino l'amarezza continua di chi non ha e non può avere mi ha tenuto lontano dagli altri e ha costretto il mio spirito nel laminatoio del dolore che l'ha reso più pulito, più affilato e più degno da una fanciullezza selvatica e precocemente introspettiva da un'omiliata solitudine imposta dalla timidezza, dalla diversità e dalla miseria dalle ripetute disfatte di un enciclopedismo troppo ambizioso dall'irismo elegiaco rimuginato per strade grigie tra muri anneriti sotto cieli di cenere dai confusi impeti verso una vita eroica, degna poetica subito negati e annegati nella maledetta quotidianità di una vita ridotta, provinciale, striminzita e mortificante uscì un pessimismo disperato e chiuso in sé come una fortezza senza finestre appena l'intelletto, alla fine dell'adolescenza fu maggiorenne, chiese la vita le sue ragioni e non ebbe risposta a quella età la perpetua domanda inutile si ripresentò a me con le stesse parole di tutti i tempi e di tutti i tediati la vita è degna d'essere vissuta il pensiero già armato si buttò dunque su questa vita miserabile senza carnevali e senza fari e fece presto a scoprirne il vuoto e il rinchiuso dolore è tutta qui a ogni desiderio una ripulsa a ogni aspirazione una smentita a ogni sforzo uno schiaffo a tutta la voglia di felicità che ci prende a sedici, a diciotto anni la promessa del nulla il nulla mascherato in cento maniere fede, gloria, arte, azione, paradiso e conquista maschere sul vuoto occhiaie senza occhi bocche senza lingue baci senza risposta ma se la vita si analizza e si spoglia e si spella col pensiero con la ragione, con la logica, con la filosofia allora il vuoto si addimostra senza fondo in nulla confessa francamente essere nulla e la disperazione si appollaia nell'anima come l'angelo si posò sul sepolcro disertato dal figlio di Dio così accadde a me e rapidamente mi affermai con tutto l'ardore di una vita ascendente nella negazione della vita la mia risposta, la sola possibile allora alla maligna ingiustizia della sorte e alla fredda e silenziosa inimicizia degli uomini fu la persuasione dell'infinita vanità del tutto della canaglieria congenita e dell'infelicità perfetta e indistruttibile del genere umano il mio pessimismo per quanto lo proclamassi e lo credessi radicale non fu conseguente e non arrivò fin dove poteva e doveva giungere raccolsi nelle mie letture tutti gli sfoghi dei poeti le battute dei drammatici gli incisi degli oratori i moniti dei predicanti gli aforismi dei mezzi e degli interi filosofi dove fosse, velato o no dimostrato lamentata l'inutilità dell'esistenza il sopravvento del male la tristezza dei sogni interrotti delle illusioni lacerate l'accuramento del passato irritornabile la disperazione che piega e stronca l'anima quando si è girato attorno la vita da ogni parte l'isola breve è appena illuminata nell'infinito gorgo del nulla messi insieme così un funereo zibaldone di dolore fatto verbo dove i distici, i paradossi, i lagni i rimpianti di uomini lontani nello spazio nel tempo e nello spirito si ritrovarono accozzati assieme come il coro angoscioso dell'umana incontentezza non per curiosità letteraria soltanto ero sincero il ritrovar negli altri quegli sconforti e quelle maledizioni mi dava animo mi sembrava di non essere più solo di avere ritrovato i fratelli i compagni nati per me i morti i consolatori mi sembrava di non poter aver torto nella mia negazione e che questa non fosse soltanto la villacca protesta di un ragazzo sciupato dall'impotenza e dalla disordinata sogneria in quel tempo mi imbattei per la prima volta in un grande filosofo leggicchiai, lessi, meditai Schopenhauer a brani, a pezzi, a intervalli ma abbastanza per sentire che la scienza agevole dei librettini di geologia o di evoluzione non era il punto più alto al quale potesse giungere l'intelligenza conoscente e tentai di tracciare una storia del pessimismo e percorsi così, a gran giornate la storia della filosofia dove altre idee, oltre quelle negative e dolenti mi attrassero e mi incuriosirono l'erudito non era più solo il teorico cresceva e si irrobustiva l'assettatura del mio sistema pessimistico fondato sulla legge che sono necessariamente irraggiungibili giusto appunto i fini più desiderabili fu accompagnata da gioie intellettuali quasi nuove per me mi dispiaceva in Schopenhauer l'ostilità al suicidio io preparai invece, come ultima parte della grande opera una stoica proposta di suicidio universale non già per chiasso non vedevo altra via d'uscita suicidio individuale no perché ridicolo e inutile ma suicidio in massa suicidio cosciente e concordemente deliberato tale da lasciar sola e deserta la terra a rotolare inutilmente nei cieli immaginavo di poter fondare una società la quale si sarebbe dovuta, via via a crescere ed estendere insieme alla diffusione del mio inconfutabile libro quando questa lega dei disperati avesse esattamente combaciato con l'umanità intera si sarebbe dovuto scegliere il gran giorno la fine avevo pensato anche ai mezzi e mi parve che il veleno fosse assolutamente da preferirsi sciocchezze fanciullaggini eppure il pensiero fisso di dover essere l'apostolo di questa suprema conclusione della vita fu per me, un certo tempo l'unico pretesto per rimanere ancora in vita e la consentì a vivere soltanto con la buffa speranza di far morire tutti gli uomini insieme a me ma non ero più solo già sul finire dell'adolescenza ero uscito da quell'ombrosa solitudine fanciullesca che mi aveva salvato l'anima dall'incanaglimento precoce dei ragazzi compagnoni avevo un cuore anch'io sentivo davvero qualcosa da dire e volevo parlare sfogarmi fino allora tutto l'amore compresso di cui ero colmo l'avevo dato a me stesso mi ero commosso sui casi miei sulla mia vita senza scopo e senza uscita avevo chiamato la morte presso di me in cattivi e patetici versi italiani e francesi ma non ero più solo già sul finire dell'adolescenza ero uscito da quell'ombrosa solitudine fanciullesca che mi aveva salvato l'anima dall'incanaglimento precoce dei ragazzi compagnoni avevo un cuore anch'io sentivo davvero qualcosa da dire e volevo parlare sfogarmi fino allora tutto l'amore compresso di cui ero colmo l'avevo dato a me stesso mi ero commosso sui casi miei sulla mia vita senza scopo e senza uscita avevo chiamato la morte presso di me in cattivi e patetici versi italiani e francesi e avevo pianto su quella mia morte vicina ed oscura la notte pensando a me alla mia sorte miserabile di uomo a cui era chiusa ogni strada e rifiutata ogni gioia piangevo e di giorno portavo negli occhi stanchi e nel mio vestito sempre nero una specie di lutto anticipato di me medesimo avevo bisogno di affetto volevo sentire una mano nella mia mano non volevo essere ascoltato e ascoltare avere qualcuno a cui dire in segreto nell'abbandono indimenticabile delle prime amicizie quei sentimenti, quei desideri e pensieri che non si possono dire ai babbi e alle mamme volevo qualcuno uguale a me per lavorare assieme qualcuno più grande di me per imparare per essere guidato qualcuno al di sotto di me per aiutare, per dirigere e ammaestrare spiavo nei volti e nei cuori e non trovavo il più delle volte che compatimento o disprezzo oppure peggio quello odioso e troppo facile camerateria dei giovenetti malavvezzi che ti pigliano sotto braccio per parlarti di casini e biciclette dei compagni di scuola francamente non volevo saperne che arroba filistei goderecci in calzoni corti sgoboncelli lividi e masturbatori beceri rompicoglioni e quello esoso finto e ravviato primo della classe no no per me ci volevano cuori amorosi e specialmente cervelli attivi ed aperti gente come me di quelli che fanno a scuola poca figura ma che leggono pensano ruminano e hanno curiosità insolite e sogni balzani per la testa uno solo ne trovai a scuola ma non era scolaro era un maestro maestro per necessità e poeta per natura giovane e generoso come era seppe scoprire nelle mie parole e nei miei sguardi l'anima che per tutti era muta la sua venuta nella mia vita fu come l'apparizione della prima stella nel lungo indugio di un crepuscolo serale egli incoraggiò i miei impulsi poetici seppe apprezzare le mie vagabonde ricerche letterarie per quanto superiore mi tenne alla pari fu il primo che in quel ragazzo sperso seppe vedere un uomo ma lui solo per quanto cordiale fosse la sua paterna amicizia non mi bastava io cercavo i giovani i giovani come me e tanto cercai che nel giro di pochi anni feci parte di gruppi o cenacoli che a me sembrarono almeno sulle prime banchette e paradisi di intelligenza cominciai col far comunella con due studenti più vecchi e istruiti di me sapevano di latino e di greco quei quali fondai una specie di congrega letteraria che si chiamò la Trinità si fece lo statuto in regola e si nominarono le cariche ognuno di noi fu lì dentro qualcosa la nostra legge ordinava che ciascuno volta a volta dovesse sostenere una tesi e scrivere una specie di memoria che doveva essere letta e discussa dagli altri due ai quali era imposto pena la vergogna di essere sempre contrari al terzo quando fu la mia volta buttai giù in uno scartafaccio di più di cento pagine una stroncatura cavillosa e violenta dei promessi sposi codesto libro lo odiavo fin da quando a scuola mi era toccato per un anno intero far l'analisi logica e grammaticale e delle mediocri disgrazi di Renzo Tramaglino e di Lucia Mondella quella contadina senza passione quel prete coglione vigliacco quel frate che aveva sempre pronta sotto la tonaca la predica o la benedizione quell'innominato che fa il terribile sul serio e poi si lascia sconvolgere dai singhiozzi di una plebea bigotta e umiliare della scaltra oratoria di un santo mi seccavano o mi facevano rabbia non vedevo e sentivo tutto quel che d'arte pura e grande va in molte pagine di quel libro troppo famoso e quell'aura pietosa e cristiana che vi ispira dentro quella quiescenza servile ai voleri del Signore Dio quella punizione esemplare dei peccatori accompagnata dal trionfo discreto dei semplici e dei disgraziati mi faceva rivoltare con tutto il fuoco del mio spirito satanico e carducciano lessi su in campagna sotto un bel cielo vivido di febbraio la mia stroncatura e su quei due che divennero in seguito egregi e rispettabili servitori dello Stato fece una impressione pessima ma come il più piccolo il più giovane della Trinità mettersi a dileggiare sbeffare e sgonfiare uno dei capolavori del genio italiano va bene l'audacia il coraggio la mancanza di pregiudizi ma fino a quel punto no davvero la discussione fu più acida e litigiosa del solito rividi spesso i miei due censori e ci parlai ancora ma della Trinità non si parlò più né allora né mai per fortuna incontrai poco tempo dopo un uomo aveva assai più anni di me che era tutto il contrario di quegli altri poeta musicista entusiasta cordiale estravagante come volevo e desideravo conosceva e amava gli stessi scrittori del mio cuore Poe Whitman mi iniziò a Baudelaire mi dette a leggere libri meravigliosi e nuovi per me Flaubert Dostoevsky Anatole Franz la sua vita era doppia amministratore o che so altro durante il giorno era un sognatore ardente scapigliato la sera e la domenica scriveva moltissimo e aveva trovato perfino il mezzo di far stampare qualcosa di suo nei giornali mi feci conoscere altri amici suoi artisti o che volevano essere tali un poeta delicatissimo dovizioso di immagini languido di tutte le male anconie era lungo come uno stereo di giglio pallido come un obizio mistico pudico e fragile come una vergine ma era tisico e morì presto conobbi insieme allora anche un pittore misterioso e punereo appassionato di Boklin un violinista mezzo matto improvvisatore furioso sul piano di marce triunfali un compositore principiante che andava perpetuamente in cerca di libretti di lezioni di canto e di mogli altrui non erano quelli come vidi più tardi uomini tali da potermi dar molto o da quali si potessero aspettare opere grandi pure fu quello per me dopo la ghiaccia libresca il primo contatto col mondo caldo e vivo dell'arte in quel facsimile di Bohem di città piccola tutte le attività dello spirito erano rappresentate vedevo in loro gli uomini che facevano che creavano che avrebbero raggiunto un giorno l'altro la gloria e non più le immagini indirizzite dei morti celebri solenni e seppelliti da quelle giovinezze oscure affannate ubriacate dai sogni e dilaniate dai dubbi sarebbero usciti i geni di domani i conquistatori dell'eternità i donatori felici delle bellezze nuove ed io volevo essere uno di loro sentirmi compagno fratello di questa sotterranea ricerca della bellezza e della fortuna ci si ritrovava tutte le feste in casa del maggiore fra noi si pigliava il caffè si fumava le prime sigarette si parlava con enfatica sincerità di un libro nuovo di uno scrittore scoperto allora di un articolo, di un'opera si discuteva, si leticava, surlava oppure poeti leggevano fra le interruzioni dell'entusiasmo di tutti i poemetti scritti durante la settimana e uno suonava sul flauto una pastorale di monotona tenerezza e un altro suonava Bach a un pezzo di musica sua vera in tutti noi la ferma speranza di essere designati alla gloria e alla grandezza ognuno di noi ammirava l'altro e ne era ammirato non c'erano invidie o rivalità si voleva essere ingannati e sognare una delle frasi più ripetute fra noi era che bisognava bere a gran sorsi nella coppa della chimera cosa poi fosse e in che consistesse questa famosa chimera di cui si faceva un così smoderato uso domenicale non ho mai potuto sapere fra quei cinque affiliati avevo anch'io la mia parte rappresentavo là dentro il critico l'erudito, il filosofo a me si rivolgevano per avere notizie storiche o di titoli di libri o lumi precisi sulle teorie di moda godevo presso di loro una fama di sterminata sapienza che solo in parte e rispetto all'ignoranza degli altri sentivo di meritare ma codesta reputazione e la mia non del tutto vinta taciturnità mi rendevano autorevole e temibile più del bisogno e a loro, quasi per paura della enorme stima che aveva per me non lessi mai niente di quel che pure andavo scrivendo concitatamente in quel tempo attorno ai più imbrogliati problemi della vita e della morte per quanto mi sentissi bene in quella periodica barahonda poetica pur sentivo che non mi bastava che qualcosa di più andava cercando il mio spirito ormai a suo effatto e portato alle astrattezze e alle costruzioni concettuali lì godevo al calore di quell'entusiasmo leggero un po' volgare la poesia mi allargava e affinava la sensibilità la musica, assaporata allora per le prime volte accompagnava con ritmi più gravi le mie galloppate visionarie ma non sentivo in nessuno dei miei nuovi amici la passione per il pensiero nudo l'abitudine del ragionamento il gusto e la pratica della schermaglia logica e dopo un paio d'anni avvenne il mio tradimento li abbandonai a poco a poco per altri compagni per altre orge cerebrali erano tre i nuovi uno studente di medicina biondo e bello che preferiva Shelly e Demiusset ai trattati di psichiatria e la galleria degli uffizi e la sala anatomica un quasi dottore in lettere nano e loquace, frugatore di librerie poeta in incognito a volte bombone e sfargione ma infine buon figliuolo un ragazzaccio minore di tutti noi irregolare in ogni cosa scolaro di nessuna scuola studioso di nessun argomento nemico giurato di ogni disciplina sfiduciato di sé e orgogliosissimo cinico e malinconico sentii subito che in questo qui c'era più anima e stoffa che negli altri due e a lui specialmente mi accostai fin dai primi tempi lo stesso giorno che lo conobbi ci leticai ma in seguito l'ebbi alleato contro gli altri due che rappresentavano nei nostri rumorosi ritrovi quotidiani la poesia, la letteratura, l'eleganza, lo snobismo in una parola quello spirito d'Annunziano che allora cominciava a gonfiare e marcire anzitempo i giovani italiani noi altri due invece si era per il fatto per il sapere certo per l'idea, per la teoria semplice e simmetrica per la dura filosofia per molti mesi si riuscì a stare insieme a discutere senza troppa amarezza alcune simpatie comuni e specialmente alcuni odi da tutti fortemente sentiti ci tenevano stretti insieme alla fine però si cominciò a punzecchiare e appunge dall'ironia si passò presto al sarcasmo all'ingiuria, all'assalto la compagnia finì misteriosamente ci fu per aria un sospetto tragico finalmente si venne d'accordo alla separazione assoluta e perpetua due di qua e due di là rivedo ancora la cantonata e l'ora in cui fu deciso e sbricato in poche parole l'irrevocabile abbandono ci separammo senza D e ne strette di mano ed io rimasi nell'appressamento della sera con un amico solo col solo amico di tutta la vita con un amico tutto per me